Maurizio Ghialdi, dirigente al turismo del Comune di Como, questa 500 miglia, che cos'è e cosa porterà al turismo per la città di Como? Quest'anno è la dodicesima edizione di questa iniziativa che è iniziata appunto 12 anni fa e che ha avuto il suo primo trascorso l'itinerario con Tappa Como. La 500 mila parte da Brescia, ha un aspetto assolutamente turistico, è una carovana di amatori d'auto d'epoca che passeggiano per la Lombardia partendo da Brescia, vengono a visitare la nostra città, soggiornano nei nostri alberghi e veicolano la conoscenza del territorio comasco e lombardo per i loro associati. La cosa importante è questa iniziativa al patrocinio della regione Lombardia e di tutti i comuni che vengono toccati. Quanti partecipanti ci possiamo aspettare? Quanti veicoli? Saranno 100-150 veicoli tra macchine d'epoca, moto, sidecar e quant'altro. Il passaggio è previsto per quando? Il passaggio è previsto per il tardo pomeriggio di venerdì, diciamo intorno alle 17-17.30, passando da Via Dante raggiungeranno la piazza Cavour per la strada normale. Aldo Caibucati, commissario aggiunto della polizia locale di Como, come influirà sulla viabilità questa 500 miglia? Cosa dobbiamo aspettarci in città? Noi andremo a prenderli quando arriveranno a Rondò di Lipomo, scenderemo lungo la statale Perlecco, poi arrivando in via Briantea, la via Dotteseo, via Dante, piazza del Popolo, piazza Matteotti, lungo Lario e poi arriveremo in piazza Cavour. Chiaramente cercheremo di far compattare il gruppo il più possibile, purtroppo l'orario in cui arrivo non è quello ottimale, in quanto ci sarà un pochettino più di impatto sulla viabilità, però noi riusciremo comunque a gestire bene la situazione e portare i veicoli il più possibile in piazza Cavour. L'orario previsto di passaggio? L'orario previsto di passaggio dovrebbe essere intorno dalle 17.30 alle 18.00, pertanto in piazza Cavour arriveremo verso le 18.15, 18.20. Quindi nessun divieto né di sosta né di transito? No, assolutamente, i veicoli dovranno comunque rispettare il codice della strada, si dovranno fermare i semafori, all'incroci e quant'altro. Pertanto la viabilità è comunque libera e non verrà interrotta mai, assolutamente. Grazie.